Ed ecco la struttura pensata per l'ospedale Marche Nord nel sito di Fosso Segiore, che dovrà servire un bacino di 500.000 abitanti. In base al progetto depositato a Palazzo Raffaello dalla società Inso Sistemi di Firenze, il nuovo nosocomio comprende 512 posti letto, 16 sale operatorie, 3 sale di day surgery e una superficie ad uso sanitario di circa 65.000 metri quadrati. Per realizzarlo serviranno tre anni con un investimento di circa 150 milioni di euro. Il governatore Ceriscioli parla di un lavoro molto approfondito e ricco di particolari realizzato da una società specializzata in questo settore. E la regione ora ha 90 giorni di tempo per analizzare la proposta e a metà giugno l'ente dovrà annunciare la decisione ed eventualmente fare partire la gara. Dopo la notizia di questo progetto annunciata mercoledì non si sono fatte attendere le reazioni della politica, come quella dell'ex sindaco di Fanno Stefano Guzzi che chiede le dimissioni di Massimo Seri. Per il consigliere comunale il Santa Croce potrà essere salvato solo se si torna a votare e se viene isolato il Partito Democratico con i suoi massimi rappresentanti come Ricci e Minardi. Per Marco Savelli della lista civica Noi Città ancora nessuno ha chiarito come verrà finanziato il nuovo ospedale. Prima si parlava di mutuo, ora di project financing, ovvero la finanza di progetto, uno strumento, fa notare Savelli, di partenariato pubblico privato che ha messo in difficoltà le casse di molte regioni, togliendo in conseguenza le risorse per altri servizi essenziali. La lista civica del sindaco è contraria al sito di Fosso 6 ore e spera che si possa trovare una soluzione condivisa ascoltando chi vive e lavora nel territorio. Solo così, secondo loro, si potrà avere un servizio sanitario migliore e vedersi restituito il diritto alla salute in democrazia.